Sedute consiglieri di fine anno urgenti a Sciacca, Ribera e Menfi per approvare debiti fuori bilancio. Una ventina a quelli esitati questa mattina in Sala Falcone e Borsellino, penò oneri derivanti da sentenze passate in giudicato risalenti perfino a sette anni fa. Superate le mille firme nella petizione promossa dal Comitato Civico Patrimonio Termale contro la chiusura dell'Antiquarium, decisa dal Presidente della Regione Musumeci, iniziativa che non si ferma nemmeno per Capodanno. Fondi in arrivo a Bivone e a Menfi contro l'erosia una costiera e il rischio idrogeologico. Intanto però a Ribera mille ettari di aranceti sono stati travolti dalla piena del verdura causata dallo sversamento dalla diga gammauta decisa dall'Enel. In memoria di Lillo Ciaccio, ad un anno dalla morte del fondatore della banca del cordone ombelicale, si è svolto stamattina in ospedale un momento commemorativo con la collocazione di una targa presso la medicina trasfusionale. Ennesimo disservizio della ditta Gallo Sais, la compagnia che dovrebbe garantire il collegamento Sciacca-Palermo, la corsa delle 9.30 è saltata senza alcun preavviso. Disaggi e pesanti lamentali da parte dei passeggeri in attesa del pullman. Domani sera, notte di San Silvestro, si prevede un esodo da parte di migliaia di giovani di Sciacca verso località vicine per le feste di fine anno da Castelvetrano a Santa Margherita a Belice. Salvatore Monte polemizza per l'assenza di iniziative a Sciacca. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale. Non solo a Sciacca, ma anche a Menfi e a Ribera c'è stata una corsa contro il tempo per convocare sedute consigliari volte ad approvare debiti fuori bilancio non più procrastinabili né slittabili al nuovo anno. Si è riunito stamattina, dopo che ieri non c'era stato il previsto numero legale, il Consiglio Comunale di Sciacca. Una ventina i debiti da approvare, il più urgente dei quali 360 mila euro, da riconoscere entro il 31 dicembre alla Cooperativa Arcobaleno per l'importantissimo servizio svolto e relativo all'accoglienza di neomaggiorenni stranieri sottoposti alla misura rieducativa con decreto del Tribunale dei Minori di Palermo e inseriti presso le strutture di seconda accoglienza. Una somma spalmata su due esercizi finanziari, il 2019 e il 2020. Per tutti i debiti fuori bilancio approvati si prevede un esborso di circa 800 mila euro, debiti che scaturiscono tutti da sentenze passate in giudicato, in qualche caso risalenti addirittura al 2012, ossia alla bellezza di sette anni fa. Debiti da pagare, non solo perché bisogna doverosamente dare esecuzione alle singole decisioni della magistratura, ma anche perché, come è noto, la Corte dei Conti continua ad invocare nei confronti degli enti locali precedenza su precedenza assoluta proprio al pagamento dei debiti fuori bilancio. Antiquarium delle Terme ha superato le mille firme la petizione del Comitato Civico Patrimonio Termale e l'iniziativa non si ferma neanche a ridosso del Capodanno. Ieri si è svolta in piazza Scandaleato, questa mattina in via Cappuccini. Ci sentiamo presi in giro dal Presidente della Regione. Hanno dichiarato questa mattina gli esponenti del Comitato Civico. Ci siamo andati, vediamo. Ha superato le mille firme la petizione del Comitato Civico Patrimonio Termale e l'iniziativa non si ferma neanche a ridosso del Capodanno. Ieri si è svolta in piazza Angelo Scandaleato, questa mattina in via Cappuccini. Ci sentiamo presi in giro dal Presidente della Regione. Hanno dichiarato questa mattina gli esponenti del Comitato. Abbiamo voluto proprio rilanciare il nostro discorso. Il Capodanno è l'ultimo dell'anno, ma il primo gennaio chiude l'Antiquarium, che era un po' l'ultimo baluardo aperto della storia del patrimonio termale di Sciacca. Noi così lo consideriamo. Quindi un tassello dell'azione che stiamo facendo per cercare di arrivare all'obiettivo di rivalorizzare nuovamente il patrimonio termale. Quindi l'Antiquarium è diventato una sorta di simbolo quasi. Ci sentiamo presi in giro. Ci sentiamo presi in giro perché a nostro avviso tutto quello che è stato detto, il progetto di rivalorizzazione, di ristrutturazione, non c'è nulla di vero. Temiamo che vadano via i reperti. Temiamo che se va bene l'Antiquarium possa essere trasferito in un altro posto. Non significherebbe affatto che vada bene perché l'Antiquarium deve rimanere lì perché è il suo sito naturale, perché è la storia millenaria del Monte Cronio. Quindi ci sentiamo scippati di questa cosa. È autenticamente presi in giro perché le motivazioni che ha autorizzato il Presidente della Regione del progetto di valorizzazione e di ristrutturazione non abbiamo potuto prendere visione di alcun progetto, non abbiamo una data, non abbiamo preso visione di nulla, non è vero nulla. Quello che ha detto il Presidente della Regione, noi lo abbiamo messo nel nostro comunicato, la frase, così come è tenuto e gestito, l'Antiquarium costituisce un'offesa alla tradizione culturale e turistica di Sciacca. Credo che un'offesa sia questa frase del Presidente della Regione perché intanto l'Antiquarium non era affatto tenuto così male come il Presidente della Regione sostiene e in ogni caso, se fosse vero, ci doveva essere un rimedio. Cominciare a gestirlo bene, non certo chiuderlo, e non certo chiuderlo senza che ne sapesse nulla e niente e nessuno, senza che lo sapesse il Comune, senza che la città di Sciacca fosse in alcun modo coinvolta. Quindi è l'ennesimo scippo che questa città subisce. Per questo noi la petizione la continuiamo a tenere aperta. Abbiamo già superato le mille adesioni abbondantemente tra quelle online e quelle fisiche. Questa petizione a questo punto assume quasi un valore simbolico. È un esercito di mille persone che vuole dire no a questo continuo scippo, a questa continua violenza che la nostra storia, la nostra città, le sue prospettive turistiche e termali subiscono. Di cui a questo punto anche l'antiquarium non è più solo un tassello, ma diventa quasi un simbolo di questa triste situazione. Franco Zamuto, si chiude un 2019 che ha visto intanto la Costituzione del Comitato. Le battaglie avviate per il 2020? Il 2020 abbiamo la tappa del 6 marzo, che noi la stiamo considerando un punto di partenza importante, che è quello diciamo di ricordare i cinque anni della chiusura delle terme, che è stato un giorno nefasto per la nostra città e ne stiamo piangendo le conseguenze. Il risultato si vede dalla crisi che sta attanagliando questa città, che non vede sbocchi. Noi riteniamo che l'apertura delle terme sia fondamentale per riaprire la speranza di un'economia che cresce. E chiaramente il turismo è il volano principale e noi dobbiamo fare in modo che questo volano riparta. Fondi in arrivo a Bivona e Menfi per investimenti nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera. Sentiamo il servizio. Un milione e mezzo di euro per i lavori di costruzione della rete fognante nel comune di Bivona e della mitigazione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera tra i bacini del Platene e del Magazzolo e un altro milione e 400 mila euro per la realizzazione di opere a difesa dell'erosione costiera nel tratto di Menfi, compreso tra le contrade Cipollazzo e Terranova a salvaguardia della costa. Sono due dei 45 progetti finanziati nell'ambito degli investimenti licenziati dal Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana che ha pubblicato la graduatoria delle stanze ammissibili relativa al bando finanziato da una delle azioni riconducibili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Progetti importanti sul piano della tenuta del territorio e con finanziamenti in arrivo in diversi comuni della Sicilia nell'ambito di una raffica di interventi per la messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico ed erosione costiera. Le risorse previste dall'avviso ammontano a 155 milioni di euro. L'80% delle somme stanziate, pari a 124 milioni di euro, verranno utilizzate per opere di riduzione del rischio idrogeologico e consolidamento dei territori, mentre il restante 20%, 31 milioni, per interventi contro l'erosione costiera. L'intero elenco di progetti ammissibili prevede una spesa di 517 milioni di euro per un totale di 140 progetti circa, ma soltanto 155 milioni di euro al momento verranno finanziate dal programma operativo. Tre progetti al momento ammessi ma non finanziabili ce n'è un altro del comune di Menfi, importo 1.700.000 euro, per la mitigazione del rischio idrogeologico per il consolidamento del versante meridionale Gurra di Mare-Portopalo e un altro presentato dal comune di Ribera, importo 2.900.000 euro, per interventi di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico a secca grande dopo l'alluvione del 25 novembre del 2016. Il bando, rivolto agli enti locali e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, prevede la realizzazione di opere pubbliche, beni e servizi con procedura di valutazione delle domande a graduatoria. L'avviso mira a finanziare operazioni strutturali di mitigazione del rischio geomorfologico, idraulico e di erosione costiera sui siti che presentano un elevato o alto grado di rischio in coerenza con le linee adottate per il piano nazionale contro il dissesto 2015-2020 e con la strategia nazionale sul cambiamento climatico. I progetti ammissibili per il contrasto al rischio idrogeologico spaziano dai lavori di sistemazione idraulica al consolidamento dei centri abitati, dagli interventi di mitigazione del pericolo alluvioni ai lavori di ricostruzione di muri d'argine. Progetti sicuramente importanti che richiamano alla memoria la situazione complicata di un territorio a rischio che va dalla spiaggia scomparsa di Eraclea Minua, destinataria, come si sa, di altre attenzioni, all'atteso progetto di completamento della mitigazione del rischio idraulico del torrente Cansalamone di Sciacca, quello per il quale il presidente Musumeci ha proposto la demolizione della strada all'epoca costruita su quello che era stato il letto del fiume. Gravi danni a Ribera per almeno mille ettari di aranceti colpiti da un inaspettato straripamento del fiume Verdura, causata anche dal rilascio da parte dell'Enel e dell'acqua che si è accumulata sulla diga Gammauta. Protestano i produttori colpiti. Sentiamo. L'Enel scarica l'acqua che si accumula presso la diga Gammauta, il Verdura esonda e allaga gli agrumeti vicini alla foce. È emergenza nel territorio di Ribera e non è la prima volta che accade, come se non bastassero le piogge e gli straripamenti che da anni rendono particolarmente critica la tenuta degli argini del fiume. Gli ultimi guai si sono verificati in prossimità della bocca del Verdura. Nel mirino sono finite almeno mille metri quadrati di terreni. L'acqua ha colpito senza pietà almeno un centinaio di alberi con il frutto ancora da raccogliere. Danni a dir poco ingenti per i produttori agrumicoli interessati da questo inatteso allagamento. Tutto questo accade nell'ambito di una tradizione, quella della produzione di altissima qualità dell'arancia di Ribera, che giusto nei giorni scorsi è stata celebrata con una bella sagra, quasi a voler simboleggiare l'altra faccia della medaglia, quella drammatica dei limiti infrastrutturali che rendono difficile la vita dei produttori. E come è normale che sia, gli agrumicoltori riberesi non ci stanno e oggi protestano contro questo stato di cose, sia per i danni che questo evento ha causato alla produzione, sia per la devastazione dei loro stessi impianti agrumicoli. E dire che nella violentissima alluvione di un anno fa, quella del novembre 2018, questi agrumeti erano miracolosamente riusciti a salvarsi e uscire indenni dalla piena, cosa che invece non è stata possibile nelle scorse ore. E così oggi l'accusa che il mondo agricolo riberese muove con fermezza gli enti preposti, regione protezione civile su tutti, è quella di non avere fatto il necessario per tentare di mitigare il rischio. Eppure è dei mesi scorsi l'annuncio di un mega investimento di almeno 6 milioni di euro per mettere in sicurezza tutto il corso del fiume Sosio Verdura. Pare che si sia ancora nella fase delle gare d'appalto, come se gli eventi naturali potessero aspettare i tempi di una burocrazia, quella siciliana soprattutto, dalla proverbiale lentezza. L'Enel naturalmente non può evitare di scaricare l'acqua del Gammauta sul fiume, ma l'ultima volta che lo ha fatto, questo straordinario quantitativo di acqua, tutt'altro che indifferente come immaginabile, unito alle altre sorgenti allo stato di piena nel quale a causa anche delle alluvioni più recenti il fiume si trova perennemente, non ha lasciato scampo agli agrumeti che si trovano proprio in prossimità della foce del verdura. Gli agricoltori riberesi non nascondono il proprio disappunto, soprattutto perché almeno dieci anni di lavori di impianto, conduzione e miglioramenti fondiari sono stati cancellati in un sol colpo e ricostruire sarà piuttosto complicato. C'è chi non esclude di intraprendere anche azioni legali, ma la situazione è tutt'altro che di semplice soluzione. Ad un anno dalla sua scomparsa, questa mattina si è tenuto un toccante momento commemorativo in ricordo di Lillo Ciaccio, medico saccense, fondatore e direttore della banca del cordone ombelicale. Alla sala Piraino, in tanti, tra amici e colleghi hanno ricordato la sua figura e l'importante lavoro medico e scientifico che ha portato la struttura di raccolta di cellule staminali ad essere il secondo centro per numero di donazione al mondo e il primo in Europa. Il ricordo di Lillo Ciaccio è stata collocata anche una targa all'interno dell'unità operativa di medicina trasfusionale. Vediamo il servizio. Il tuo cordone. È stato denominato così il momento in ricordo di Lillo Ciaccio, medico ematologo fondatore della banca del cordone ombelicale di Sciacca, che questa mattina ha raccolto alla sala Piraino dell'ospedale Giovanni Paolo II tanti amici e colleghi che hanno dato lustro al superato alla sua vita ad un anno dalla sua morte. In prima fila una commossa dottoressa Michela Gesù, sua stretta collaboratrice, ma sono stati tanti i relatori che hanno ricordato l'attività di Lillo Ciaccio, uomo caparvio che ne ha passate tante e che proprio per la banca del cordone ombelicale è stato anche indagato e sempre assolto. Al momento di incontro il ricordo promosso dal comune di Sciacca e dall'Asp di Agrigento hanno preso la parola diverse personalità che hanno avuto modo di confrontarsi con Lillo Ciaccio, a partire dal medico Damiano Abbate, primario emerito di medicina d'urgenza. Con emozione ricordo quello che ha saputo fare Lillo. Per la banca del cordone sì, è l'ultima delle sue cose, ma anche prima della banca lui si è speso per questo territorio. Una cosa che mi piace ricordare, a parte la banca che è ancora una realtà, che speriamo possa avere i lustri che ha avuto mentre c'era Lillo. Prima della banca stavo dicendo una cosa importante che mi piace ricordare, Lillo ha contribuito a far crescere, a nascere prima e poi crescere la cultura della donazione. Io ricordo che all'epoca esistevano gli elenchi dei donatori prezzolati che venivano dai paesi vicini per dare, non donare, dare a pagamento ad alto prezzo 200-250 cc di sangue. Lillo con la sua voglia di fare è riuscito pian pianino con la raccolta che faceva settimanalmente nei paesi vicini a Sciacca. Raccoglieva questo sangue, lo tipizzava, lo studiava e lo metteva a disposizione di chi ne avesse bisogno. Con questo metodo siamo riusciti ad annullare il commercio del sangue, che mi sembra una grandissima cosa. Per merito suo Sciacca era conosciuta a livello mondiale, Sciacca aveva la banca del cordone ombelicale che era seconda a New York, forse l'avete già sentito da qualcun altro, era seconda a New York per numero di cordoni raccolti ed era la prima in Europa, quindi Sciacca era a livello mondiale. A ricordare la figura di Lillo Ciaccio anche il direttore dell'oncoematologia del centro medico La Maddalena di Palermo, Maurizio Musso. Io conobbi il dottore Sciaccio nel lontano 1978 quando incominciai a fare l'ematologo e conobbi questo personaggio così molto istrionico, molto eclettico che mi colpì veramente tantissimo e poi nella nostra storia comune, lui era un ematologo immunotrasfusionale, io un ematologo puro, avemmo modo anche di frequentarci anche per vicende diciamo non del tutto gradevoli ma che comunque ci hanno portato a una grande amicizia e una grande stima reciproca. Lillo è stato un pioniere, Lillo è stato una persona diciamo completa, è una persona probabilmente che per i tempi fu scomodo ma è una persona che ha portato molto anche la cultura scientifica italiana e non solo, con il suo interessamento nelle cellule cordonali è stato veramente un pioniere. Al dottor Lillo Ciaccio è stata dedicata anche una targa commemorativa posta all'interno dell'unità operativa di medicina trasfusionale del Giovanni Paolo II. Ennesimo di servizio questa mattina della Gallo Sais, la compagnia che dovrebbe garantire il collegamento Sciacca-Palermo. La corsa delle 9.30 è saltata senza alcun preavviso, lamentele dei passeggeri. Salta una corsa, quella delle 9.30, è senza alcun preavviso. E così i passeggeri diretti a Palermo stamattina sono rimasti in balia degli eventi e in piena confusione. Nessuno era stato informato del fatto che il bus diretto nel capoluogo non si sarebbe presentato nella stazione di via Gatocle. Si è poi scoperto, ma molto dopo, che c'era un guasto. Si sono riaperte questioni mai del tutto digerite dalle persone. La questione soprattutto infatti riguarda sia l'impossibilità di ottenere il rimborso del biglietto acquistato, sia quella di poter utilizzare lo stesso biglietto per una corsa diversa. Alla fine oggi alcuni dei passeggeri rimasti a piedi sono stati ammessi alla corsa successiva, quella delle 11.30, mentre altri utenti, che avendo perso la corsa delle 9.30, non avevano più interesse ad andare a Palermo, essendosi neutralizzato l'appuntamento che avevano, cercavano acquirenti dei loro biglietti. Tutto questo accade quasi nel 2020, in un regime di monopolio che continua a fare acqua da tutte le parti e per tante ragioni. Pare infatti che oltre alla biglietteria di Sciacca, neanche la biglietteria palermetana, avvisata per telefono dai passeggeri, fosse a conoscenza del fatto che il pullman non sarebbe partito. Non è stato disposto un bus sostitutivo, forse perché non c'era più tempo, forse per altri motivi. Tutto è demandato alle supposizioni in barba di una carta dei servizi che tutto fa, tranne tutelare gli utenti. Solo alle 10.15, sia tre quarti d'ora dopo l'ora prevista dalla partenza, chi aspettava il bus è stato avvisato che la corsa era saltata. Uno dei passeggeri ha deciso di protestare contro la Gallo Saes, facendo notare che i fatti odierni rivelano come la compagnia non abbia un sistema di gestione delle informazioni che consenta alle biglietterie di contattare direttamente gli autisti. Non esiste nemmeno una procedura per la gestione tipo delle criticità, sistemi di avviso dei passeggeri, corse sostitutive, cambio rimborso biglietti. Tutto questo viene denunciato, unito al comportamento dell'autista che stamattina non ha sentito il bisogno di avvisare nessuno. Giovani saccensi pronti a migrare verso i comuni vicini a Capodanno. Un fenomeno che va ormai avanti da anni e che in realtà non riguarda solo il 31 dicembre ma anche il sabato sera. Nessuna maxifesta però per il Capodanno 2020 e a sollevare la questione è stato oggi il consigliere comunale Salvatore Monte. Sentiamo. E ormai un fenomeno noto. Succede ogni fine settimana che gruppi di giovani saccensi si spostino nei comuni vicini o ancora più lontano verso il versante orientale della Sicilia per passare il sabato sera in discoteca. C'era una volta il picabù nella stagione estiva, c'erano i veglioni a Torre Macau del Grand Hotel delle Terme nella stagione invernale per festeggiare Natale e Capodanno e succedeva l'esatto contrario di oggi. Erano i giovani dei comuni vicini ad arrivare a Sciacca. I tempi cambiano e Sciacca già da tempo ha perso questa attrattiva per la mancanza di spazi e di iniziative in grado di richiamare le folle. Proprio così perché al di là degli spazi è innegabile che i giovani di tutte le generazioni inseguono le mode, si va nei locali più frequentati, più affollati sono e meglio è. Detto ciò è innegabile che la città di Sciacca ha perso a PIL che anche per il Capodanno 2020 registrerà, come avviene ormai da tempo, un esodo dei nostri ragazzi verso altri comuni e questo indipendentemente dalle iniziative di alcuni locali del centro storico che provano ad intrattenerli. E' ormai un'abitudine consolidata ma è pur vero che mancano le occasioni, ossia le alternative per provare a farli rimanere in città. L'assenza di una maxifesta per il consigliere Salvatore Monte che da assessore aveva sostenuto alcune iniziative per il veglione di Capodanno a Sciacca è un grave errore. Non avere trovato un'intesa con le varie associazioni ed organizzazioni di eventi della nostra città, dichiarato Monte, di fatto determinerà lo spostamento in massa dei giovani verso altri lidi. Alla fine della fiera Sambuca, Santa Margherita e Castelvetrano diventeranno il fulcro esclusivo dei parti di festeggiamento per il nuovo anno, conclude Salvatore Monte e Sciacca resterà a guardare anche in questo. Il Codacons scende in campo contro i botti di Capodanno e chiede a polizia, carabinieri, guardia di finanze e vigili urbani un tour de force e uno speciale di spiegamento di forze per effettuare controlli e sequestrare i botti pericolosi in tutte le città. Già molti comuni hanno dichiarato il responsabile nazionale Tanasi, hanno risposto al nostro appello emanando delibere che vietano i botti nella notte del 31 dicembre, ma occorre fare di più, perché ogni anno si fa la triste conta di vittime e feriti in Italia legati all'uso di petardi e altri materiali fatte esplodere per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Un incontro in Prefettura alla presenza di tutti i sindaci della provincia è quanto ha chiesto ai sindacati a fronte della grave crisi economica ed occupazionale in cui versa il territorio agrigentino. Per i sindacati è necessario affrontare tutti insieme le questioni che riguardano le infrastrutture e la mancanza di servizi e di sviluppo che rappresentano le cause principali della crisi economica. Fine anno con freddo e prime precipitazioni nevose nelle aree più interne. Per questo motivo il personale tecnico e stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sta effettuando un attento monitoraggio delle strade del comprensorio montano. In caso di necessità i mezzi del Libero Consorzio sono già pronti per evitare la formazione di ghiaccio sui tracciati del comparto centro nord in particolare nell'area Cammarata San Giovanni Gemini, Bivona, Santo Stefano di Quisquina. L'ASP di Agrigento verso una svolta ecologica si punta alle auto elettriche e alla collocazione di colonnine di ricarica in tutte le strutture della provincia. Sentiamo di cosa si tratta. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento apre all'idea dell'alimentazione elettrica per il proprio parco mezzi guardando all'orizzonte verso il rinnovamento in senso ecologista della mobilità dei mezzi di servizio. Il primo passo è già stato fatto pensando di utilizzare alcuni spazi dedicati presenti in tutte le strutture distribuite sul territorio provinciale collocandovi delle colonnine per la ricarica delle vetture elettriche. In questo senso l'area servizi del settore tecnico aziendale ha ricevuto il mandato ad effettuare una consultazione di mercato finalizzata ad individuare degli operatori economici interessati ad installare a proprie spese gli impianti di searching ma ricevendo in cambio l'uso gratuito delle porzioni di suolo necessarie alla creazione degli stalli e la gestione del servizio. Se, come pare sia auspicabile, l'ASP incontrerà l'interesse dei fornitori attivi nel settore, l'apertura nei confronti della Green Mobility produrrà benefici per l'intera collettività, contribuendo al rispetto dell'ambiente e della qualità dell'aria. In aderenza a quanto previsto dalle direttive dell'Unione Europea permetteranno alla provincia di Grigento di partecipare al raggiungimento degli accordi internazionali relativi all'abbattimento del 40% dei gas serra entro il 2030. Il progetto pilota avviato dall'ASP consentirà ai futuri mezzi aziendali di ricaricarsi in home, verosimilmente a costi agevolati e in generale a tutti i cittadini della provincia di poter contare su un comode ed efficiente servizio di ricarica davvero a portata di mano. Borse di studio 2019-2020 è fissato dalla regione siciliana il termine per presentare le stanze per le famiglie degli studenti delle scuole superiori. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nell'istituzione scolastica frequentata dagli studenti che hanno diritto entro il 7 gennaio. Il bando per le borse di studio è destinato a quelle famiglie di alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria per contribuire alle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l'anno scolastico 2019-2020. Le famiglie devono essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, cioè l'ISEE, non superiore a 10.632,94. Il libero consorzio comunale di Agrigento, terminata la fase di verifica dei requisiti, provvederà al pagamento degli eventi diritto quando saranno erogate le somme della regione siciliana. Ottima cornice di presenze per i primi tre appuntamenti con Caltabellotta-Città-Presepe. Il presepe vivente, narrato ed interpretato da alcuni attori locali coordinati dal Comune e dalla Proloco. La ventisesima edizione prosegue con le ultime due giornate, il 4 e il 5 gennaio. Molto suggestiva la proiezione è il gioco di luci sulle montagne che sovrastano il presepe e le stradine del Borgo Montano. Vediamo. Continua l'esploat di Caltabellotta-Città-Presepe, manifestazione giunta alla sua 26esima edizione. Già nei primi giorni di evento, tantissimi visitatori da tutta la Sicilia hanno affollato le stradine del caratteristico paesino montano, un presepe naturale arricchito dalle narrazioni, interpretazioni di antichi mestieri e degustazioni. Molto suggestiva anche la proiezione sulle montagne sovrastanti il presepe vivente con la scritta di benvenute ed accoglienze per gli ospiti. Dopo il boom di presenze, nel giorno di Santo Stefano, si è replicato anche giorno 28 e ieri sera, con più di 2000 visitatori. Lo spettacolo di Caltabellotta-Città-Presepe verrà riproposto ancora il 4 e 5 gennaio 2020. Un presepe che sta affascinando i presenti. Oltre ad essere vivente, infatti, da quest'anno è anche narrato ed interpretato, con alcuni attori locali coordinati da Comune, Proloco e diverse associazioni. Luci, suoni, mestieri tradizionali, degustazioni di prodotti tipici del territorio, personaggi storici in un contesto caratteristico e di particolare bellezza naturale, che merita di essere visitato tutto l'anno. Soddisfatti per la buona riuscita dell'evento tutti gli organizzatori, in particolar modo il sindaco Calogero Cattano, l'assessore Michele Pipia e tutta la giunta. La manifestazione non rappresenta soltanto il desiderio di spirito natalizio e riposo, ma è un avvenimento che affascina e richiama per la voglia di immergersi nelle atmosfere create dalla natura, dalle rocce naturali, dalle stradine abbarbicate tra i monti, in mezzo a saperi, sapori ed odori che scandiscono il ritmo di un tempo quasi sospeso. Un'esperienza totalizzante per chi visita il borgo, che accompagna i visitatori accolti dalle luci, dalle nenie e dalle musiche natalizie, dagli animali e dalle scene degli antichi mestieri di una volta, riproposti con maestria. Un evento al contempo culturale, turistico, religioso, gastronomico e teatrale, pieno di suggestioni che gli ospiti riporteranno a casa con loro. Si è conclusa in dolcezza la manifestazione sapori e delizie di Natale a Montevago. In Piazza della Repubblica l'evento si è concluso con la degustazione di una mega cassata da 50 chili preparata da pasticceri Francesco Mauceri e Michele Ciaccio. A tagliare la mega torta è stato il sindaco, Margherita Larocca Ruvolo, pienamente soddisfatta dell'iniziativa che ha avuto l'obiettivo di raccogliere in un unico soggettivo contesto le eccellenze agroalimentari del territorio belicino. Una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale con il contributo dell'assessorato regionale alle attività produttive dedicata alla valorizzazione delle tipicità gastronomiche della Valle del Belice. Un valido esempio di promozione delle eccellenze del territorio nel contesto delle manifestazioni natalizie. Oltre mille pazienti hanno scelto di aderire alle campagne di prevenzione gratuite promosse dal Centro Medico Bellanca e tra queste è quella dei disturbi muscoloscheletrici, la prevenzione dentale per gli over 50, la campagna sui disturbi gastrointestinali e la prevenzione delle vene varicose. In questa intervista Giuseppe Bellanca traccia un bilancio delle attività svolte nel 2019. Sentiamo. Siamo attestati come centro di riferimento nella provincia e non solo perché abbiamo tantissimi pazienti che vengono dalle province limitrofe a quella di Agrigento e questo ci rende veramente orgogliosi. Significa che abbiamo lavorato veramente bene e i nostri professionisti sono così importanti che ci permettono di ottenere questi risultati. Abbiamo voluto aspettare questi anni prima di inserire la medicina estetica perché volevamo garantire la nostra professionalità. La medicina estetica è un campo un po' delicato, non è semplice. Abbiamo acquistato apparecchiature e all'avanguardia, apparecchiature che sono della top quality, sono apparecchiature che sono le più importanti al mondo oggi nel campo della medicina estetica e abbiamo tutto ciò che ci permette di trattare l'aspetto estetico non invasivo. Per quanto riguarda invece la prevenzione dentale over 50, anche questa è stata un'iniziativa direi unica perché nel campo dell'odontoiatria è veramente difficile fare prevenzione gratuita perché la visita fine a se stessa può essere considerata una cosa sterile in odontoiatria. Invece noi abbiamo fatto una campagna ben organizzata, mirata e il responsabile di questa campagna è stato il dottore Fuschino che devo veramente ringraziare perché ha speso tantissimo del suo tempo e della sua professionalità dedicandolo ai pazienti che sono stati davvero tanti che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Per quanto riguarda l'implantologia noi abbiamo dei professionisti veramente di caratura internazionale perché facciamo sia la chirurgia tradizionale, l'implantologia tradizionale, ma facciamo anche la computer guidata che sarebbe una chirurgia molto avanzata dove l'aspetto chirurgico viene studiato dalle chirurgo preventivamente attraverso un'attacca e in 3D e quindi il tutto viene progettato prima rendendo la chirurgia molto meno invasiva perché non si fa una chirurgia a cielo aperto. Insomma il meglio che c'è a livello mondiale per quanto riguarda l'odontoiatria è qua dentro. Il messaggio principale secondo me è quello di invogliare ai pazienti di entrare in questa struttura anche per chiedere una semplice informazione perché noi siamo stati sempre, continuiamo con una buona organizzazione e una disponibilità non indifferente nei confronti dei pazienti. Noi il paziente veramente lo abbracciamo a 360 gradi e quindi non devono avere il timore di entrare in una struttura così importante perché qua noi semplifichiamo il tutto sia da un punto di vista medico ma anche da un punto di vista organizzativo. Quindi veniteci a trovare qualora aveste bisogno perché noi saremo sempre a vostro fianco. E adesso la rubrica curata dalla Mondadori di Sciacca. Molto si sa del Vittorio Feltri giornalista e della lunga e fortunata carriera che lo ha visto passare da un piccolo giornale di provincia al Corriere della Sera fino a diventare direttore di testate come Libero e il Giornale che sotto la sua dirompente conduzione si sono affermate tra i quotidiani più letti in Italia. Meno noti invece sono alcuni aspetti della sua vita privata e del suo carattere perché tenuti gelosamente nascosti dietro l'immagine battagliera e spesso cinica che il direttore mostra in pubblico. Attraverso il racconto di amicizie indelebili strette nel corso degli anni e di aneddoti divertenti l'irriverente svela un Feltri inconsueto e inaspettato. Lo scopriamo involontario autore di un verso di Giorgio Gaber oppure impegnato in chiassose partite al biliardo insieme a Nicola Trussardi negli anni dell'adolescenza. Tanti sono anche i ricordi che lo legano a colleghi diventati poi veri amici a partire dai direttori del Corriere della Sera, Franco Di Bella e Pietro Stellino fino all'inimitabile Gianni Brera, giornalista massiccio e ricco e appassionato e ancora si avverte bruciare in queste brevi pagine scritte a distanza di anni l'indignazione per le vicende giudiziarie che coinvolsero Enzo Tortora e Angelo Rizzoli, ai quali Feltri non fece mai mancare il proprio sostegno pubblico e privato. L'irriverente, Memorie di un cronista, di Vittorio Feltri, edito Mondadori. E vediamo le manifestazioni per il Natale 2019. Oggi alle 19 nella sala Blasco del Palazzo Comunale appuntamento con Natale d'autore proposto dalla compagnia tetrale Teatro Oltre. È un reading a cura di Maria Grazia Catania e Franco Bruno con storie del periodo più bello dell'anno con brani tratti da opere di grandi autori. Prevista la partecipazione degli attori Annalia Misuraca, Annalisa Gentile, Giussi Di Giovanna, Liliana Marciante, Maria Grazia Catania, Nicola Puleo, Riccardo Guirreri e Franco Bruno. Nell'ambito delle manifestazioni natalizie, l'Azione Cattolica e l'arciprete di Sciacca, Don Giuseppe Marciante, hanno organizzato per stasera alle ore 20 nella chiesa di San Domenico in Piazza Angelo Scandaliato una tombola di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alle opere pastorali. Durante la serata ci sarà anche un sorteggio di un presepe. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Ancora una volta grazie per essere stati con noi. Ancora una volta grazie per essere stati con noi.